Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, sono D'Alessandro Davide. Oggi con questo video voglio spiegarvi come si sostituisce un'elettrovalvola della lavatrice. Vi ricordo che ho già trattato questo argomento, quindi se vi interessa sapere come fare una corretta diagnosi vi invito a cliccare il link qui in alto o alla fine del video. Prima di iniziare per favore vi invito a supportarmi iscrivendovi gratuitamente al canale e a cliccare mi piace. In questo modo farete crescere il mio canale e mi darete la possibilità di realizzare nuovi video. Quindi per iniziare svitiamo queste viti che sono quelle che bloccano il top sulla lavatrice. Una volta svitate possiamo sfilare, vedete basta tirare, semplicissimo, e si sfila e lo togliamo. Quindi adesso vediamo insieme come sostituire l'elettrovalvola. Con una pinza spostiamo queste fascette in questo modo facciamo oscillare la pinza per facilitare la cosa dopodiché sfiliamo i tubetti. Questo qui è un po' più largo di questo, sono fatti in modo da non doverli confondere ok poi stacchiamo i morsetti qui c'è un fermo qui sotto che va sollevato praticamente sarebbe questo ok qui abbiamo un altro connettore anche questo qui lo stacchiamo nello stesso modo a questo punto dobbiamo girare tirando un pochino facendo oscillare un po così dobbiamo girare l'elettrovalvola e l'abbiamo staccata a questo punto vi faccio vedere anche come si rimette in sostanza la puntiamo così e giriamo è più semplice rimetterla che toglierla reinseriamo i tubetti rimettiamo le fascette qui per aiutarvi mentre spingete con la pinza da questa parte anche col dito sotto spostate la fascetta vedete così è più semplice e riapplichiamo tutti i morsetti quindi questo questo qui e poi questo ok molto semplice